Il killer ha fatto irruzione ieri mattina attorno alle 8 nel caffè Moca di Vaughan, un quartiere di Toronto in Canada. Ha sparato una raffica di colpi uccidendo due persone. Tra queste Maria Voci, 47 anni, originaria di Siderno, ma da anni trasferitasi in Canada. Italiana ha anche l'altra vittima, il 24enne Christopher De Simone. Altre due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave. Dopo la sparatoria l'assassino si è allontanato a bordo di un'automobile nera, di cui però si sono perse le tracce. Maria Voci era una dipendente della caffetteria e la sua storia non sembra presentare ombre. Tanto che secondo le autorità del paese nordamericano, non sarebbe stata lei l'obiettivo dell'assalto avvenuto a poche centinaia di metri da Woodbridge, il quartiere calabrese di Toronto. La donna era conosciuta e benvoluta nel quartiere dove viveva e lavorava. La polizia canadese sostiene che sia ancora troppo presto per capire se le vittime siano state degli obiettivi o se semplicemente si tratti di una rapina finita in tragedia. La sparatoria di ieri mattina è la quarta in un anno nel quartiere di Woodbridge. Tutte hanno fatto contare vittime e sono avvenute in pieno giorno. Maria Voci lascia tre figli e un marito.